Ciao a tutti, io sono Mary Rose, questo è il mio canale e oggi siamo su un nuovissimo video! Come avrete potuto leggere dal titolo, oggi video tra noi, Zara. Ma come sempre, prima di iniziare con il video, vi ricordo di lasciare un like se vi piacciono i miei contenuti ed iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Inoltre vi ricordo che vi lascio giù nell'info box i link dei miei canali social, così se vi va potete venire a dare un'occhiata. Ma bando alle ciance e ciancio alle bande, iniziamo subito con il video! Sono qui con il mio consueto appuntamento con Zara, vi faccio vedere quello che ho comprato. Allora, non ho comprato tantissime cose perché, ragazzi, ho speso la bellezza di 150€ e non ho comprato praticamente niente. Allora, mi armo di telefono perché voglio dirvi tutti i prezzi e le taglie. Come sempre, la Mary del futuro vi farà vedere le cose indossate, io le ho appena spacchettate, quindi in questo momento vi darò solo un'opinione, diciamo, visiva e tattile dei materiali, però vedrete appunto come stanno indossati successivamente. Cioè, voi lo vedete in contemporanea alla mia parlata, però in realtà io li proverò dopo, quindi non vi so dire come mi stanno addosso. Voglio appunto dirvi tutti i prezzi e quindi mi sposto di lato per permettere alla Mary del futuro di farvi vedere tutte le cose indossate. Tutti i prodotti che vedete in questo video sono della nuova collezione e partirei subito con il primo che è una camicia. Camicia con stampa floreale pagata 30€ taglia M color verde. Questa è la camicia. Allora, in sé devo dire che non è per niente male. È una bella camicia, appunto come potete vedere ci sono questi fiorellini, è leggermente trasparente, quindi dovete metterla con una canottiera o con una bella bralette al di sotto. E devo dire che non è fatta per niente male. Bisogna vedere come sta indossata. Ha la particolarità di avere questi bottoni dorati, quindi una bella chicchetta. E i bottoni che ci sono sulla manica li ritrovate anche su tutta la camicia. Devo dire che a differenza di molte camicie che ho visto ultimamente da Zara, questa qui è fatta molto molto bene. Devo solo capire se questa punta di verde mi può stare bene o se mi sbatte, perché non ho mai comprato niente di questa punta di verde, però la ragazza sul sito ce l'aveva con un bel paio di jeans e devo dire che mi ispirava, perché pensavo, come sempre mi faccio gli outfit mentali, avevo immaginato questa camicia qui o con una gonna di jeans e dei tacchi bianchi o con un jeans e dei tacchi bianchi, appunto. Quindi è da vedere. A vederla così, però vi devo dire la verità, non mi sembra per niente male. Il secondo prodotto che ho preso è un vestito attillato a coste, tagli M, pagato 18 euro. Questo qui è il vestito. È un semplicissimo vestito nero, in realtà. Leggermente a costine, ma proprio leggermente. Probabilmente non lo vedrete, però devo dire che anche come materiale è fatto molto bene. È leggermente arricciato sulla vita, però sicuramente lo capirete meglio indossato, perché essendo nero si capisce poco. È a gire maniche, leggermente quasi a mezze maniche, però arriva qui. Ovviamente lo vedrete meglio. E devo dire che è carino. Io questo qua l'ho preso, perché, non so se vi ricordate, nell'ultimo video haul, se non erro era con i saldi, di Zara, ne avevo preso uno arancione e mi era piaciuto molto, mi sono mangiata le mani di non averlo preso nero. E quindi l'ho voluto prendere. Però devo capire se è lo stesso materiale dell'altro. Mi sembra leggermente più pesante. Il che è strano, perché andiamo incontro alla primavera e all'estate dovrebbe essere più leggero. Però, vabbè, comunque, bisogna vederlo indossato. Bisogna anche capire quanto è attillato e quanto effettivamente può nascondere le rotondità. Passiamo al prossimo capo e ho preso un top con texture a spalle scoperte pagato 20 euro taglia M. Allora, il top in questione è questo qui. Ecco le spalle scoperte tipo barca, quello che va comunque sia di moda in questo momento. Effettivamente la texture di questo prodotto è molto, molto strana, però sembra interessante. L'unica cosa che mi preoccupa sono le taglie, perché questa qui è una M, però mi sembra abbastanza piccolina. In sé non è brutta come maglietta, è molto particolare grazie alla sua texture, però bisogna vederla indossata. Devo capire anche se è trasparente, a vederlo così mi sembra leggermente trasparente. Non è che mi dia molto fastidio, però ecco, bisogna sempre abbinarci il reggiseno giusto. Se lo vuoi mettere senza reggiseno potrebbe essere un problema, perché appunto è leggermente trasparente. Però questa qui, per darvi un giudizio, devo aspettare di vederla indossata, perché in questo momento devo dire che è più un no che sì. Non potevo assolutamente non prendere una gonna, e infatti ho preso una gonna pantalone asimmetrica, pagata 26 euro taglia M. Questa qui è la gonna. In realtà è una mini, mini gonna, che però all'interno ha il suo pantaloncino, e infatti questa cosa è comoda. Allora, come potete vedere, la gonna sul davanti è asimmetrica, nella parte dietro è fatta proprio a gonna, quindi non è fatta con il pantaloncino, il pantaloncino è letteralmente nella parte sottostante. Questo è il pantaloncino, che devo dire che è molto piccolino, cioè molto sottile. Spero che mi stia, perché devo dire la verità, questa qui è molto molto carina, ma oltre a essere molto carina, è fatta anche bene. È una gonna bella strutturata, quindi non una gonna svolazzante, e devo capire solo quanto è corta, perché se la metto a vita alta, come piace a me, questa secondo me è cortissima, però forse non va messa a vita alta, e quindi potrebbe non piacermi. Ovviamente la Mary del futuro risponderà alle nostre domande, ai nostri quesiti, però in questo momento devo dire che a questa gonna gli do proprio un bel voto pieno, perché mi piace molto sia come è fatta, sia il materiale. Poi il colore, vabbè, in realtà è un bianco un po' panna, che sono, spero, esatto, cosa si vede la differenza, questo è proprio bianco candido, mentre questo qua è un bianco pannoso, diciamo così, però devo dire, questa gonna sembra molto molto bella. Passiamo ad un'altra gonna, e ne ho presa una nera, questa qui è una gonna pantalone a pieghe, pagata 30 euro taglia M. Questa è la gonnellina in questione, è una gonnellina nera, semplice, tutta plissettata, e anche questa qui al di sotto ha il pantaloncino. Io devo dire la verità, prediligo molto le gonne con il pantalone, perché uno lo potete mettere anche se avete il ciclo, molto tranquillamente, e due è molto più, diciamo tranquilla, c'è una follata di vento, vi dovete piegare, ecco, non rimanete con le ciapette all'aria. E questa qui arriva, sto guardando adesso, fino alla XL, quindi molto bene, mentre quella di prima, vi dico, se sentite un rumore, è Happy, che sta rovinando la mia sedia, Happy? Ok, speriamo abbia smesso, dicevo, quella di prima invece arriva addirittura, fino alla XXL, cosa per Zara, secondo me, quasi rara, quindi, se volete, potete approfittarne tranquillamente, perché solitamente le cose di Zara, sono SML, veramente impressionante, mentre di queste gonne hanno fatto delle taglie più grandi, e c'è anche l'XS, non l'XXS, solo l'XS, comunque, questa qui è la gonna, nera, lissettata, sembra fatta bene anche questa qui, e sicuramente la vedremo indossata. l'ultimo prodotto che ho preso è una maglietta, ovviamente rosa, perché qualcosa di rosa ci deve sempre essere, io ho preso un top in maglia, con spalle scoperte, 26 euro taglia M, e questa qui è la maglietta, appunto, come potete vedere, sempre scollo a barca, molto aderente, taglia M, non lo so, sembra, cioè comunque è molto elasticizzata, l'unica cosa che, c'è la boccio subito, ve lo dico, a meno che addosso non fa un figurino, strepitoso, il materiale è pessimo, il colore però è fantastico, peccato, però il materiale è proprio pessimo, la cosa che in questo haul mi sta piacendo di più per il momento, è assolutamente la gonna bianca, che sto pensando che si abbinerebbe davvero benissimo, con la camicia che vi ho fatto vedere all'inizio. Queste sono tutte le cosine che ho preso su Zara a questo giro, fatemi sapere che cosa ne pensate, fatemi sapere qual è il vostro pezzo preferito, io come sempre vi ringrazio per aver guardato il video, vi ricordo di lasciare un like se il video vi è piaciuto, di iscrivervi al canale, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!